Fate stando notevoli preoccupazioni in Sardegna l'annuncio del Presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi per 11 miliardi di dollari ai prodotti europei come rappresaglia per gli aiuti di Stato che avrebbero concessi al colosso aeronautico europeo Airbus, diretto concorrente della statunitense Boeing. Tra i prodotti nel mirino il pecorino romano, un provvedimento che andrebbe a incidere sulla filiera lattiero-casearia in un momento in cui sta cercando di rilanciare il comparto dopo le proteste dei pastori per il prezzo del latte. Se l'intento del Presidente Trump andrà in porto sarà la pietra tombale per il settore ovino della Sardegna così come lo abbiamo conosciuto fin qui e quanto sottolinea una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Pino Cabras che commenta così l'ipotesi avanzata dalla Casa Bianca di imporre pesantissimi dazi ai prodotti e alle merci provenienti dai paesi dell'Unione Europea, tra cui il pecorino romano esportato negli Stati Uniti. Aprirsi a nuove produzioni e nuovi mercati che non siano il solito pecorino romano, il formaggio più dollaro dipendente del mondo, rischia di diventare a questo punto non più un'opportunità ma una necessità vitale, rileva Cabras. Secondo l'esponente Pentastellato, più in generale saremo soggetti a molti scossoni economici e finanziari ed è arrivato il momento di guardare alle nostre convenienze. A provocare la crisi e la reazione degli Stati Uniti, secondo Pino Cabras, è stata la scelta del governo francese di vendere 300 Airbus alla Cina, colpendo in questo modo gli interessi della Boeing. Ma la decisione francese è arrivata al di fuori di ogni accordo preso all'interno dell'Unione Europea, a differenza del memorandum d'intesa Italia-Cina, che è invece identico a quello firmato da altri paesi, sottolinea il deputato Cabras. Ovunque in Europa la prospettiva ai nuovi dazi per i prodotti europei è preoccupante, conclude l'esponente Pentastellato, ma deve essere un segnale fortissimo per l'economia sarda, affinché trovi in tempi rapidi nuovi mercati per il nostro formaggio.